Musica 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 e poi piano piano perfetto apriamo bene con i piedi le gambe più o meno alla larghezza di una vostra gamba iniziamo portando una mano sull'altra e la mettiamo su una coscia apriamo i piedi fino a qui apro i piedi la mano da questa posizione ti stiro inizio da l'interno e vincendo a mano inizio inizio questa è una proposta mi sono passata bene e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.